Siamo molto soddisfatti per la presenza e per la condivisione di intenti in un dibattito senz'altro costruttivo che ha messo in evidenza anche criticità che ci sono a livello gestionale ma che senz'altro hanno dato merito alla Regione Sardegna per le risorse che ha investito in questa legislatura e per la lungimiranza avuta nel capire che tutela e valorizzazione delle aree protette può rappresentare la vera importanza per un'economia e per una crescita anche di lavoro.